Il Monte Carriero sulla sezione è una sezione più venitiera possibile Quanto è una situazione con un po' più un calcio? No, è proprio una unità con un po' più giusto Ma con un po' più giusto Il vero con quello Si però in una posizione dove non ci sono case solo Per uscite? No, non è proprio un po' più giusto Per che? Se lo capisce alla casa Per che? Per che? E' una cosa? Sì Per che? E' un po' più giusto E' un po' più giusto E' un po' più giusto